Se il fiume pulirai, la vita migliorerai. Il fiume è come un cuore che cosparge vita e amore. Sono queste le voci degli alunni della quarta e della quinta elementare della scuola di San Pietro in Frassino, nel comune di Ortignano Raggiolo, una delle tante interessate d'amico CB2, il progetto di educazione ambientale promosso dal consorzio di bonifica Due Alto Valdarno. L'ente infatti ha deciso di festeggiare i suoi primi dieci anni tornando in classe. Per raccontare ai ragazzi l'importanza del nostro ente e delle attività che noi facciamo per la manutenzione e per la tenuta e la messa in sicurezza dei nostri corsi d'acqua e anche per l'irrigazione, quindi stivare l'acqua e renderla al mondo agricolo in questo particolare momento storico in cui i cambiamenti climatici anche da noi si fanno sentire. Se il fiume amerai più grande tu sarai. Il fiume è rilassante perché l'acqua è cantante. Il consorzio ha poi chiesto ai ragazzi di trasformarsi in cronisti, fotografi e videomaker per comunicare la loro esperienza. Come sempre le novità vengono da loro prese come scoperta, come motivo anche di fare cose nuove e quindi l'interesse è tanto, l'aspettativa è tanta. Poi l'idea di vestirsi da cronisti, da giornalisti è interessante perché vivono in un mondo che conoscono benissimo quello della televisione, quindi ecco il giornalista è comunque un ruolo affascinante e sono molto interessati e molto anche volenterosi di voler ricercare materiale, di fare foto, di andare alla scoperta anche di quello che poi è il mondo che ci circonda.